Non vado mamma, se lo vuoi dire? Perché lo posso andare con me? Tesoro, non sempre possiamo seguire le persone che amiamo. Devi tornare a letto ora. Ora non deve morire, non deve morire. Non ha la tua forza, non ne ha e non ne ha avuta mai. Ha soltanto un gran cuore. Anche lei lo sapeva. Perché devo tornare a letto? È mattina. Non è ancora mattina.